ciao io sono Mauro e questo non è zio orso questo è il laboratorio di Alessio di Worker Corner oggi siamo qui sono venuto a conoscerlo abbiamo fatto anche una parte del suo video insieme ho visto il suo corner è tutta un'altra storia rispetto al mio lui è ordinato ma quando mai c'è un casino a un mare di attrezzatura tra l'altro ho visto il suo pts 10 che è veramente interessante rispetto al mio parkside alla furia del parkside sì e niente alla fine il nostro hobby il fai da te è anche questo condividere la passione quindi mi trovavo in giro per il nord e ho fatto una piccola deviazione per conoscerlo a me ha fatto un sacco piacere anzi ho approfittato per farmi dare una mano portare su il mobiletto che non so se avete visto vedrete poi Mauro è un grande è simpatico disponibile e ringraziamo anche mia moglie che è soprattutto sua moglie perché se non era per là e qua non ci venivi mi sa è stata gentilissima a sprecare il tempo per riconoscere questi vecchi bobbioni che fanno i video su internet si spassano così va bene ragazzi per oggi è davvero tutto al prossimo video fatti bravi ragazzi come lui